Non solo musicale, perché quando si parla del mio amico Alessandro si parla di musica, musica sempre solo musica, musica con amore, avete sentito tanta musica, e di Sardegna. Io ho imparato tante cose sulla Sardegna che io ho sempre amato, non ho origini sarde, ma a questo punto avrei detto che vorrei averle avute, perché è un posto che ho frequentato, che anche grazie a lui ho conosciuto, ma non è di me che dobbiamo parlare. Io un certo giorno, parliamo del 1997, vedo arrivare un signore non proprio giovanissimo, però era più giovane di come sono giovane io adesso, per cui lo vedevo grande, appena apre bocca si sente una bellissima voce lirica, intatta, perché è come il cervello di certe persone non era stato mai usato, anche fino a quel momento era perfetta, perché aveva studiato. Qua voglio aprire una piccola parentesi. Noi siamo rovinati oggigiorno da questi programmi talk show che fanno vedere che in tre minuti si impara a cantare, in sei minuti si impara a ballare, e tutti e due in otto minuti fanno il cantano e ballano. A monte di tanta musica c'è studio. Quindi diciamo che come un hobby, come una passione, Alessandro, io queste cose le ho apprese sapendole da lui, per tanto tempo, da buon sardo, aveva amato e studiato musica, canto, sorfeggio, tutto, tutto, tutto. E però aveva una vita che era quella con un lavoro serio, un lavoro che chiunque avrebbe voluto all'epoca, perché era un personaggio anche conosciuto, imprenditore, benestante. Avete sentito sicuramente parlare di quelle storie che dicono che bisogna trasformare le disavventure, per non parlare di disgrazi, in opportunità. Ebbene, è successo un certo giorno, non ne fa mistero Alessandro, perché poi tutto questo narrerà nel libro che sta uscendo, crisi, non crisi, ce l'abbiamo tutti. Quello che era il suo mondo sparisce completamente, sparisce insieme ai suoi beni, a tutto quanto. Che fa quest'uomo? Si piange addosso? Da buon sardo, assolutamente. No, inizia a mettere in pratica quell'altro proverbio, impara l'arte e metterà da parte. Prima cantava per hobby, si è tirato sulle mani e si è andato a far sentire in posti più altologati del salotto di casa, aveva già fatto concerti e non è che sti improvviso, studiato, studiato e studiato, si va a far sentire e inizia una carriera di artista di coro in un coro prestigioso, perché anche Cagliari, stiamo parlando di uno dei dodici enti italiani che sono grandi, poi per la Sardegna era l'unico, diciamo. E inizia pure lì un percorso, alti passi, il passo fu che a un certo punto, per un contrasto interno, evidentemente, sai, i maestri a volte soffrono di qualche stranezza che non si capisce, capita a tutti, e quindi lui arriva a Roma. Ma a Roma arriva con il plauso di un maestro che lo accoglie, chiamandolo addirittura con una cosa che mi ricordo, una voce antica, diceva questa è una voce antica, ci abbiamo bisogno, lo mise tra di noi che siamo i tenori secondi, che come si dice per battuta non siamo secondi a nessuno, ma siamo semplicemente quelli con le voci un po' più robuste, e poi dobbiamo saper leggere la musica, meglio degli altri, perché dobbiamo fare quelle voci strane che stanno in mezzo. Lui era bravo in tutte e due, utriusque iuris, come si dice, e infatti a proposito di diritto una delle cose che imparai da lui fu che il primo testo di legge della storia moderna fu la carta del logo, me ne regalò subito un meraviglioso esemplare rilegato in pelle umana, una cosa bellissima, quindi devo dire è iniziato un percorso. Ora io non vi sto a dire quante cose abbiamo fatto, un giorno che vi va le leggete sul libro che scriverà, perché io mi sono stupito di come non mi ricordo nulla. Io ho letto un po' quella che è la sua bozza, ho scoperto di aver fatto insieme a lui delle cose che avevo completamente dimenticato, anche cose molto importanti, solo che io le voglio far vedere a voi brevemente dal punto di vista del sardo, il vero sardo d'azione, nel senso, lui andava all'estero, andava in posti tipo Sydney, Mosca, posso dire, Hannover, Tokyo, e portava la bandiera sarda. Noi abbiamo foto di lui in posti assurdi con la bandiera sarda. E questo è una cosa molto importante perché vi testimonio personalmente il grande amore non solo per la musica ma per la sua terra. Quindi questo è una cosa. E secondo il grande esempio umano che poi tutti noi abbiamo avuto, perché era un po' più grande di noi, però era l'ultimo come anzianità, ma la perfezione della sua esecuzione, la puntualità, la signorilità, i valori che portava. E non per fare un paneggirico, perché stiamo parlando di un amico in salotto, ma anche quella robustezza vocale e intenzione di far bene per far bene, perché piaceva, era ad esempio a tutti. E questo io l'ho capito perché ho capito la sua storia che ho saputo dopo. Perché riuscire a tirare fuori da una situazione negativa, negativa completamente, una carriera nuova che l'ha portato a scrivere un libro che si chiama Oltre il sogno, vuol dire che, prima di tutto, c'è una provvidenza. Io parlo a lui, che è un uomo di fede, e noi su questo ci capiamo, perché siamo tutti e due dei credenti e ce ne vantiamo. Quindi si vede un po' la mano del Signore su tante cose. E dall'altra, anche l'aiuto che l'uomo dà alla mano del Signore, perché ce l'ha messa, ce l'ha messa, ed è stato veramente un successo continuo. Devo dire che non ho mai percepito, negli anni che è stato lì, è entrato con un maestro, è stato apprezzato da uno successivo, non ha mai percepito verso di lui, se non che plazio. E questo, per uno che arriva a questa professione, pur avendo studiato tardi, è una grande soddisfazione, che va oltre il sogno. Devo dire che, contemporaneamente, ci coinvolgeva come spettatori, a volte in organizzazioni, ottimo organizzatore, concerti, ha aperto la cultura sarda a Roma, c'è tante cose, in posti dove non ne avevano mai sentito parlare. Voglio dire, in conclusione, perché poi vi annoio, la verità su questa persona è che è stato d'esempio, perché io non voglio fare un discorso che in questo momento sveli fatti della sua privata, praiva, siccome si diceva, del suo privato, preferiamo l'italiano. Il suo privato, lui lo scrive su un libro, e io mi permetto di svelare un piccolo segreto di Alessandro, ve lo dico anche se magari non ho concordato prima questa cosa. Lui un certo giorno, lo vedevo triste, ma un triste dignitoso, e stava pensando, abbiamo detto prima che aveva perso tutti i beni, lui aveva perso la casa, ragazzi, la casa, una cosa seria, casa che si era comprata con il suo lavoro. un altro giorno lo vedo a lei, perché mi dice lo sai Giuseppe, che io dopo tutto questo mi sono ricomprato quella casa lì. Poi quando si dice che è un capostone, io non so se ho fatto bene a vivere questa cosa, ma lui è riuscito a riprendere tutto e andare oltre. Io quindi vi esorto da ammiratore della Sardegna, ma di un suo figlio che ammiro molto, a fare un grande applauso a un artista e a un musicista e leggete il libro che uscirà. Post scriptum, non è passato un minuto da quando l'ho lasciato, e così è entrato al Teatro dell'Opra che aveva 55 anni. Eccolo qua. Adesso siamo a...